Otto anni, zero nella prima manche, lui in sella e Giovanni Consorti. Ha un po' di margine alle quattro penalità di Cicci Grossi, le quattro penalità di Leonardo Falomo. Il tempo a Giovanni Consorti a questo punto interessa proprio poco. Sempre lì, lì nel mezzo, finché ce n'hai, stai lì, stai lì, sempre lì, lì nel mezzo, finché ce n'hai, finché ce n'hai, stai lì. Grazie a tutti. Giovanni Consorti ha comunque vinto il Gran Premio di Arta Terme, complimenti, deve solo decidere con chi dei suoi tre cavalli vincerà il Gran Premio. Il doppio zero di Berenice, il tempo di 38.25 è sufficiente per andare al comando della classifica e ora c'è solo lui a completare la seconda manche. Complimenti quindi a Giovanni Consorti, già prima di finire la seconda manche, ora lo dobbiamo chiaramente attendere. Rientrerà prima con Canterino, poi con il suo Don't Worry Be, per vedere cosa sarà capace di fare, se addirittura andare a prendere le prime tre posizioni, tutte e tre, del Gran Premio di Arta e sarebbe veramente un record. Qualche minuto di conseguenza.